Un reality tv speciale all'insegna di abbracci, dolori importanti e condivisi e tante tante emozioni. Parti oggi su 8channel reality tv dedicato al benessere psicofisico Prenditi cura di me che grazie ad un intenso percorso di cambiamento e quattro coach insegnerà alle persone ad amarsi, a prendersi cura di sé e del rapporto con gli altri. È un format innovativo ideato dallo scrittore e psicoterapeuta Massimiliano Gaudino. La psicoterapia introdotta in un contesto televisivo fa dimenticare i concorrenti del contesto televisivo e quindi l'obiettivo raggiunto, tutto quello che ho sempre vissuto nella stanza con i pazienti, sono riuscito a portarlo in tv. Ed è vigilia di emozioni per un format che parte da stasera alle ore 21 su 8channel tv canale 696 e in streaming su www.8channel.tv. Sono straemozionato che questo progetto che è nato da tempo sta fiorendo e quindi sono energico e sto vivendo forse probabilmente tutte le emozioni che i concorrenti ci hanno donato. Una prima serata per una prima puntata che racconterà le prime due giornate di casting presentando tutti i candidati che hanno raggiunto il Caravaggio Sporting Village di Napoli per prendere parte a questa nuova straordinaria avventura televisiva. Cominceremo a incuriosirci un po' delle loro vite, delle loro esperienze e anche delle dinamiche che succederanno e si creeranno tra i vari coach che sarà anche un modo per conoscerli perché di solito non si è abituati a conoscere il professionista al di fuori della sua professionalità.